Nei giorni in cui si corre il Giro d'Italia, ricordiamo Giuseppe Ausenda, detto Tino, ciclista professionista dal 1944 al 1952, nato a Brivio il 16 maggio 1919. Rino Negri, grande giornalista della Gazzetta dello Sport, lo definì come gran lavoratore del pedale, serio ed estremamente tenace. Tino Ausenda esordì da dilettante nel 1939, nella squadra del dopolavoro aziendale della ditta Vismara, il famoso salumificio di Casatenovo. Partecipò quindi come indipendente, senza cioè essere aggregato a nessuna squadra, ad alcune corse tra il 1944 e il 1945, tra queste la Coppa Patrioti Bergamaschi, prima manifestazione sportiva italiana dopo la liberazione, organizzata dall'Unione Ciclistica Bergamasca e svoltasi a Bergamo il 27 maggio 1945, che vide la vittoria proprio di Tino Ausenda. Ausenda, che è stato sempre pronto, vigile e attento, a Nembro parte di scatto e giunge solo al traguardo. La sua carriera da professionista iniziò tuttavia nel 1946, anno in cui Ausenda ottenne la sua unica affermazione nel trofeo Torino-Biella, gara riservata ai ciclisti dilettanti e professionisti indipendenti, che si correva in aprile. Tra il 15 giugno e il 7 luglio dello stesso anno si corse il Giro d'Italia, interrotto a causa della guerra dal 1941 al 1945. A quel giro Tino Ausenda partecipò con una squadra allestita per l'occasione, la Milan Gazetta, uno strano sudalizio tra la società calcistica e il quotidiano sportivo organizzatore della Corsa Rosa, tanto che la maglia era divisa in due, un fianco rosso-nero e un fianco rosa. La Milan Gazetta era composta di soli sei ciclisti, tra cui spiccava Luigi Malabrocca, la leggendaria maglia nera dei giri del 1946-47, maglia ideata per celebrare l'ultimo della classifica generale. Nella dodicesima tappa, Firenze-Rovigo, del 29 giugno, Tino Ausenda entrò nella fuga buona con altri otto corridori, regolati in volata da Oreste Conte, con Ausenda piazzatosi al settimo posto. Il 30 giugno è in programma la contestata tappa Rovigo-Trieste. Trieste e il territorio a est dell'Isonzo non erano infatti italiani, ma erano suddivisi in una zona A con Trieste e una zona B, la prima sotto il controllo anglo-americano e la seconda sotto il controllo jugoslavo. Superato il ponte sull'Isonzo, dopo l'attraversamento di Pieris, Ausenda, Malabrocca ed Egidio Marangoni della Milan Gazetta sono in testa al gruppo e dietro una curva si ritrovano la strada sbarrata da blocchi di cemento. I tre, imitati dal resto del gruppo, mettono piede a terra e subito alcuni attivisti comunisti filo-jugoslavi scagliano chiodi e pietre verso i corridori e il seguito. A farne le spese è il bergamasco Marangoni, raggiunto alla fronte da una pietra. Nel fuggi-fuggi generale la polizia, composta di militari alleati, tenta di disperdere i manifestanti, ma nella Bolgia un agente viene ferito da un colpo di pistola. La direzione di corse decide quindi la neutralizzazione della tappa. 31 dei 48 corridoi rimasti in gara, tra cui Bartali e Coppi, vengono trasferiti su camion e auto a Udine, sede di partenza della tappa successiva. 17 corridori, tra cui la squadra della Viglia Triestina e della Milan Gazetta, eccetto il povero Marangoni, decidono invece di raggiungere la periferia di Trieste a bordo di moto e di terminare la tappa. Vincitore della tappa fantasma, in un tripudio di bandiere tricolori, fu il triestino Giordano Cottur, della Viglia Triestina, non a caso acronimo di Viva l'Italia Libera Redenta. Per la cronaca, nella volata Tino Ausenda si piazzò al sesto posto. Un modo poco diplomatico di celebrare l'italianità di Trieste, non ancora sancita dalla diplomazia internazionale. Forse, anche al forte legame instauratosi quel giorno, Tino Ausenda diventerà corridore della Viglia, dal 1948 al 1950. Ma di quel periodo avremo modo di parlare in un'altra occasione. Alla prossima, amici del bruco. Grazie. Grazie. Grazie.